Noob? Nooo perchè? Nooo perchè? Che facendo allora? Che schiaffegge? Già tornato dalla cagata? Il barrito? Dalla faccia ci fa sembra che ci sta sforzando Ma perchè non posso cancellare il mio adesivo? L'ho messo io cazzo Perchè c'era un pollo No Ancora devo? Cos'è che ti trattiene? Troppo dura, troppo grossa Nooo! Nooo! Ma che orrore sta roba dai! Faccio! Nooo! 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 Che decorazione è quella? Nooo! 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 Ann una sruita bamboda si come tenere un Amanda ha anche una risposta felice a peso affermata romance Quei 4 мат Valent我是 Mostics si il parco è visto uno stronti hai fatto un video vabbè mi sono stufato vabbè cioè con i denti tutti i marci gli occhiali neri mi bacio la fara questi tamburi ouch nooo non rimettere la torrida di prima ah no questo va bene questa roba oh mamma una bella dose per tranquillizzarti per tranquillizzarti ma la bomba che cos'è? 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 tutti non ti eh Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.